Il contagocce per candidare gli uscenti, ad eccezione di Loizzo, a cui ho chiesto di restare per raccontare su un uomo di esperienza, che a guai con la giustizia si faccia da parte, nessun limite alle donne in lista. Illustrando il programma, il candidato Emiliano detta i criteri per compilare le liste. C'è un esercito che preme per candidarsi e annuncia, se le richieste continuano così, si farà la terza civica in appoggio al PD. Il segretario democratico lancia con orgoglio la sagra del programma, la prima esperienza di coinvolgimento di popolo in campagna elettorale. Ruoterà su sei forum, uno in ogni provincia a partire dal 14 marzo a Bari. 20 tavoli tematici, con un facilitatore ed esperti in materia che guideranno i contributi dei cittadini. C'è posto per un massimo di 300 partecipanti, chiunque, anche i partiti e gli avversari sono invitati, previa registrazione sul sito. Il metodo è stato brevettato da una società certificata di Bologna. Il modello è quello della prima campagna elettorale al comune di Bari. Noi siamo convinti in questo modo di scrivere un programma che sia più collegato ai problemi della gente comune e che non sia ispirato invece dagli interessi che alle volte sono dietro la politica. Già pronta l'agenda dei primi 100 giorni, subito la legge sulla partecipazione per facilitare l'accesso alla politica, poi la correzione della riforma elettorale vergogna, infine la norma antipolitici nella sanità.